Due grandi personaggi della cultura albeganese, l'artista Sergio Giusto e l'ex sindaco Giorgio Cangiano. Com'è stato il tuffo di oggi? Freddo! Freddo lì! Non freddo, però è stato sicuramente molto bello, perché è bello poter entrare in questo ogni tipo mare. Siamo in Liguria, mi fanno fare anche questo e poi farlo insieme a personaggi. Lui è un personaggio molto più importante di me, sicuramente. Per albega comunque ci aiuta per migliorare tutto quanto è possibile.